Bene chicos, stamattina dobbiamo confidare molto nella color correction perché ho dormito poco e ho la faccia molto bianca. Però la notizia è che mi sono fatto la barba, come vedete, dopo averne parlato per dei giorni mi sono fatto finalmente la barba. Ieri sera ho mangiato anche la matriciana perché abbiamo fatto cena responsabile, quindi ci siamo concessi carbonare a matriciana la stessa sera. Devo dire, non c'ho più il fisico per fare queste cose, ma c'ho più il fisico per mangiare alle 11 e poi andare a dormire troppo presto perché non c'ho più la stessa rigestione di quando avevo 20 anni, succedono anche queste cose, ma a voi che vi interessa? Oggi parliamo di come riconoscere le truffe, argomento molto interessante, molto delicato, ne parliamo dopo la sigla. Molto bene, allora, dato che è un argomento delicato vorrei parlarne con leggerezza, va bene? Infatti è tornata anche la nostra amata pallina. Allora, come riconoscere le truffe? La truffa, quella lì più evidente di cui si è parlato tanto in questi anni, è il classico sistema piramidale piuttosto che sistema ponzi. Ne sto parlando perché mi sono accorto che comunque molti non la conoscono, soprattutto anche di quelli che mi seguono non li conoscono, che cos'è uno schema ponzi, quindi cerchiamo di parlarne. Negli anni alcune persone hanno imparato, il primo dovrebbe proprio essere stato questo ponzi, questo italiano se non erro, poi non mi sono documentato così tanto, però il concetto è quello. Hanno imparato a fare questa truffa, cioè ti chiedono dei soldi e tu in cambio di questi soldi dovresti percepire o un guadagno automatico, oppure un guadagno sulle persone che si iscrivono sotto di te. Cioè tu dai dei soldi e poi devi far iscrivere altre persone. Se far iscrivere altre persone, guadagni una percentuale su di loro. Dove sta la truffa? Nel fatto che inizialmente sembra un sistema bellissimo, cioè sembra un sistema, ma che figata, cioè se io faccio iscrivere persone, prendo soldi, quindi basta far iscrivere delle persone a questo fantomatico programma e quindi tu guadagni da loro. La truffa dove sta è che guadagni una percentuale chiaramente, non tutta la quota, quindi per esempio tu metti 1000€, far iscrivere due persone sotto di te e mettono 1000€, non l'azienda, perché non è nemmeno un'azienda in questo caso. La piramide, lo schema piramidale, quindi il vertice della piramide prende i soldi e tu prendi una percentuale su questi soldi. Quindi a te basta che ne porti due, poi gli altri ne porteranno due, tutto quello che devi fare è portarne due, far iscrivere due persone. Poi gli altri ne porteranno due, gli altri ne porteranno due e tu guadagnerai in modo automatico. Prima guadagnerai anche una percentuale su quelli che stanno sotto quelli sotto di te e anche una percentuale su quelli che stanno sotto di quelli sotto di te e così via. Quindi guadagnerai sempre di più sulla base delle persone che si iscriveranno senza che tu ne fai iscrivere più di persone. Te ne bastano due. Ecco, la fregatura dove sta? Sta nel fatto che poi a un certo punto le persone in cima alla piramide spariscono e chiudono tutto e quelli sotto alla piramide rimangono con il cerino in mano senza un euro. Non lo dico perché l'ho sentito dire, ma lo dico perché mi è capitato tanti anni fa, però sì, mi è capitato. Avevo degli amici che comunque lo facevano, ero molto sicuro perché comunque era un ambiente protetto, mi fidavo molto di loro, eravamo comunque nel mondo della formazione, quindi mi sentivo abbastanza protetto. Dove vedevo che lo facevano tutti i miei amici o almeno i principali, quindi lo feci pure io e ci ho perso dei soldi. Ci ho perso circa 1000 euro, 1000 rotti euro. Ho anche purtroppo convinto delle persone a farlo, in realtà una persona a farlo che ci ha perso pure lui dei soldi. Poi fortunatamente ci siamo fermati senza perdere troppo, però ci ho perso dei soldi anni fa. Tra l'altro mi hanno detto anche recentemente che è stata fatta una class action per questa cosa e abbiamo anche vinto, quindi potrei anche riavire parte di questi soldi, ma non ci ho mai sperato sinceramente. Perché l'ho fatto? Perché ero diverso, avevo 20 anni, avevo 22-23 anni, digerivo ancora bene quando mi mangiavo il kebab o la matriciana la sera, digerivo ancora diversamente e soprattutto avevo meno esperienza di queste cose. Ne ho fatta esperienza e chiaramente, ripeto, secondo me ci ho perso anche pochi soldi, perché poi quella è una coaching da 1000 euro, se ti è capitato non prendertela a male. Le persone che lo fanno commettono un reato, cioè è proprio illegale come cosa, quindi loro si devono preoccupare. Tu non ti preoccupare, cioè se ci hai perso dei soldi, per te è una coaching, è una coaching da 1000 euro, cioè ti hanno insegnato queste cose. Ogni volta che io perdo dei soldi nella mia vita, dico vabbè, ho fatto una consulenza da 1000 euro, mi è costata 1000 euro di consulenza e va bene così. È un bel modo di dare significati positivi a questa cosa, chiaramente, se poi non lo fai più, perché sennò che consulenza è se continui a rifarlo. Ripeto, c'avevo meno esperienza e alla base però c'era un meccanismo che è molto interessante, di cui dovremmo parlare, ed è il voler guadagnare senza dare valore. Perché tu cadi in una truffa? Che cos'è che attira i gonzi? Cioè quelli che si fanno fare fessi? Ma ero un po' un gonzo anch'io, cioè ero ingenuo. Volevo guadagnare in modo facile, in modo automatico, in modo passivo. Ecco, queste sono le parole a cui devi stare attento. Guadagni in modo automatico, passivo, non per forza sia truffa tutti i guadagni automatici, però tendenzialmente è molto alta la possibilità di essere truffati quando senti queste parole. Guadagni automatico, in modo facile, non devi fare niente, devi fare solo una cosa, oppure devi solo pagare, poi ci pensiamo noi, ecco. Quando senti queste frasi, scappa il più lontano possibile, dattela, lascia stare, e al 99% c'è una truffa dietro. E ripeto, il meccanismo che sfruttano i truffatori è il tuo bisogno di avere successo senza dare valore, senza creare una contropartita di reale valore per le persone. Quando ho capito questa cosa, chiaramente mi sono focalizzato non tanto sul cercare l'opportunità, e questo è il classico opportunity seeker, cioè il cacciatore di opportunità. Io cercavo opportunità di guadagno facili, ma mi sono focalizzato sul dare valore. Cioè, volevo certo trovare delle opportunità di mercato, ma chiunque faccia l'imprenditore cerca delle opportunità di mercato, pure si apre una pizzeria, è un'opportunità di mercato. Perché c'è un posto in cui le persone potrebbero andare a mangiare e hai questa opportunità di dare questo servizio in cambio di un contributo economico che lo ti danno, cioè quando pagano la pizza. E quella è un'opportunità. Però i cacciatori di opportunità seriali sono quelli che non danno valore. Cioè, la contropartita della pizzeria è appunto la pizza, quindi c'è una contropartita. La truffa sta proprio nel fatto che tu hai bisogno, hai questo disperato bisogno di guadagnare e lo capisco perché davvero io quando c'avevo vent'anni, tutto quello che volevo erano un po' di soldi al mese che mi permettessero di non fare un lavoro che non mi piacesse. Solo questa era la mia priorità e penso che molti di voi ce l'hanno a sta cosa. Cioè, mi bastavano anche cinquecento, anche mille euro al mese, poiché comunque non mi mantenevano i miei genitori, quindi mi mantenevo da solo. Avevo fatto dei lavori che non mi piacevano. A me bastavano pochi soldi al mese che almeno, almeno non devo, come posso dire, non devo fare qualcosa che detesto completamente. Non volevo diventare milionario con questi sistemi. Mi bastava pochi soldi al mese, pure duecento, trecento euro al mese che almeno qualcosa c'avevo così che potevo fare soltanto quello che mi piaceva, soltanto i lavori che mi piacevano, potevo scrivere, potevo fare radio, tutte le mie passioni a vent'anni. E dicevo poi col tempo magari ci guadagnerò anche, però nel frattempo mi bastava qualcosa, questa era la mia leva. Però anche lì, senza una contropartita reale, questo è molto pericoloso. È molto pericoloso perché se non c'è la contropartita reale, cioè se non c'è il prodotto, poi questa cosa diventa proprio illegale, oltre a una truffa per le persone è proprio illegale come cosa. Invece, per esempio, ci sono altri sistemi di network marketing che magari io non condivido perché io non faccio network, ma questa è una mia opinione personale, non è illegale. Non faccio network per una mia scelta. Ho deciso di dedicare le mie energie completamente a tutto il discorso del project management, imprenditoria, la mia azienda, non volevo essere defocalizzato da altre cose. Ma questa è una scelta mia, non c'entra con il discorso che stiamo facendo. Però lì non è illegale, perché? Perché c'è, o almeno ci dovrebbe essere, il prodotto. Cioè se tu fai scrivere delle persone sotto di te che consumano caffè, per esempio il classico network del caffè, e ci guadagni una percentuale su di loro, quella è una cosa assolutamente legale. Però c'è il prodotto, capito? Il prodotto e il caffè, o che ne so, l'integratore di turno. La cosa è illegale quando il prodotto non c'è, quando non guadagni per un prodotto. Oppure anche lì è illegale quando il prodotto è finto. Cioè quando ti dicono che c'è il prodotto, ma in realtà il prodotto non c'è, oppure è un prodotto di facciata per mascherare in realtà un guadagno solo sui soldi che portano soldi che portano soldi. Mentre invece se il prodotto c'è, è chiaro che tu puoi guadagnare una percentuale, sei semplicemente un rivenditore dell'azienda, network marketing o come lo vogliamo chiamare. Poi altre cose di cui dobbiamo parlare, mi raccomando datemi dei feedback nei commenti se questo video vi è stato utile, se non lo sapevate o se lo sapevate già, perché io credo che sia molto utile parlarne. Per tanti anni non ne ho parlato perché pensavo che fosse inutile, dico vabbè tanto la gente lo sa, poi mi sono confrontato con un po' di persone e mi sono accorto che non si sa che cos'è il ponzio, il piramidale eccetera eccetera e quindi secondo me è giusto parlarne, non è mai vecchio come argomento. Altre cose che possono riconoscere la truffa, i venditori che spingono. Cioè se c'è un venditore che spinge in modo eccessivo, non è che per forza non è una truffa però è un indicatore, è un indizio. Se il venditore spinge tanto, ecco per esempio la frase questo è l'unico modo per avere successo, fare questo corso è l'unico modo per avere successo. Così andiamo anche un po' nell'ottica della formazione, dato che è il nostro settore. Parliamo un po' a tutti i pericoli se vogliamo o alle cose a cui stare attenti nella formazione, che magari non sono proprio illegali però sono comunque pericolosi e da starci attenti. Dicevo il venditore che spinge, quindi quello che ti dice devi comprare questo corso oppure devi comprare questo prodotto perché è l'unico modo per avere successo. È l'unico modo, no, anche per chi fa i nostri corsi, lo diciamo sempre, almeno cerchiamo di dirlo sempre, non è l'unico modo per avere successo. Se ti iscrivi esami in sette giorni non è l'unico modo per dare gli esami. Puoi farlo anche da solo. Se lo vuoi fare con un corso o con un coach è perché vai più veloce, lo puoi fare in modo più semplice, guidato. È perché semplicemente vuoi farti seguire, esattamente come fa un atleta che si fa seguire da un coach, da un personal trainer o quello che è. Lo fa meglio, semplicemente. Io sono un profondo sostenitore del coaching. Spendo informazione, anch'io, abbastanza ricorrente, da anni, da quasi un decennio, spendo informazione e mi trovo benissimo. Altre volte mi sono trovato male, ho fatto dei corsi che non erano utili, però quelli non erano una truffa. Cioè se fai un corso che non è utile, pure là smettiamola di etichettare tutto sotto la stessa bandiera. C'è chi fa la truffa, fa la truffa. C'è chi vende formazione utile, c'è chi vende formazione non utile. Quella lì non è truffa, si chiama semplicemente un prodotto scadente. Cioè se tu vai a mangiare la pizza e la pizza non ti piace, che puoi dire non ti pago la pizza. Pagagli la pizza e non c'è andare più in quel ristorante, perché comunque tu il prodotto l'hai ricevuto. Quindi smettiamola anche lì di... Perché si crea molto vittimismo da questo punto di vista. Ah no, perché tu mi hai truffato. Ma se l'hai comprato è perché lo volevi. Ma in realtà, se proprio vogliamo dirla tutta, anche nel caso della truffa di prima, ripeto che il sistema punzi piramidale sono cose illegali, quindi non le fate, non vi avvicinate. Però se ci siete già passati, davvero è un modo per osservarsi. Potete imparare qualcosa, potete osservare il vostro bisogno di guadagnare, ripeto, è quello che ho osservato io, ve lo dico per esperienza personale, ho osservato il mio bisogno di guadagnare passivamente, di guadagnare senza far niente. In realtà non volevo dare valore alle persone. Era tutto incentrato sui miei bisogni, il mio bisogno di fare la cosa che piaceva a me e non davo valore alle persone. Quando invece ho mitigato il mio bisogno di esprimermi, di essere creativo, con il dare valore alle persone, quindi dare qualcosa che aiutasse veramente le persone, allora ho trovato poi l'intersezione della mia vita, l'ikigai della mia vita, perché era utile per il mondo, era utile per me, era bello per me, era bello per gli altri, lo sapevo fare, eccetera, eccetera. Nel frattempo fatti un altro lavoro, se vuoi fare un'altra cosa fai il cameriere, fai l'animatore, fai un altro lavoro che ti ripaga inizialmente le tue passioni, finché non riesci poi a guadagnare con il lavoro che ti piace, che aiuta le persone, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tornando alla formazione, secondo me dovremmo smetterla di etichettare tutto quello che non ci piace come truffa. Non è una truffa, hai investito nel prodotto sbagliato, basta, imparerai a decidere meglio, però non è una truffa. E questo appello lo voglio fare anche a quei genitori che per quanto riguarda i loro figli cercano di controllarli, cercano di dire no, voi avete controllato mio figlio, avete manipolato mio figlio, avete cambiato mio figlio, cioè pure la smettiamola. Se i genitori non volete appoggiare i vostri figli, non li appoggiate, punto e basta, non li finanziate, non gli date i soldi, va bene così, però da lì a dire non cambiate mio figlio, non avete manipolato mio figlio, tutta questa cosa qua è tutta molto molto vittimistica. Io veramente ci farò un intervento, penso ad appuntamento col futuro, sui fili che ci legano come dei burattini. Uno di questi fili, ve lo dico già in anticipo, sono i genitori, perché ti tirano come dei fili e vediamo dei ragazzi che dalla mattina che sono in un model, il pomeriggio parlano con i genitori e sono completamente diversi, cioè sono altre persone. Perché? Perché i genitori hanno tirato il filo, hanno usato il ricatto emotivo, ah, vedi, tu investi su di te, ah, bravo, bravo, e che è della famiglia, chi ci pensa alla famiglia? No, tutte queste leve qua che mi fa male soltanto a parlarne, perché i genitori in realtà sono dei bravissimi venditori da questo punto di vista. Ecco, pure là volevo fare questo appello ai genitori, cioè se vedete che il vostro figlio è cambiato, i ragazzi cambiano, troveranno delle guide, troveranno dei riferimenti che non siete soltanto voi, mi dispiace dirvelo, scusate se non sono il primo che ve lo dico, ogni tanto riceviamo delle indicazioni, delle guide, da persone che non siete voi. Lo so che magari adesso state pensando tu non hai figli Andrea e quindi non puoi capire, va bene, lo capirò meglio quando avrò dei figli, però penso che sia assolutamente normale che una persona trovi delle guide, dei punti di riferimento, magari su delle cose in cui tu non sei stato un punto di riferimento e mi dispiace dirtelo se lo sto dicendo io, però è così. Questo non vuol dire che uno vuole negare il discorso del padre, della madre, anzi noi siamo i primi che incentiviamo il dialogo con i genitori. Io lo dico a ogni corso, a ogni corso ho sempre detto ragazzi non voglio fare il rovino a famiglie, tornate a casa, parlate. La frase che dico a ogni corso ci sono tutti gli studenti, testimoni che dico non tornate a casa e fate quelli che hanno capito tutto. Non tornate che guardate le altre persone come quelli che adesso io conosco la comunicazione, la vendita, so il lavoro su di sé, so che siamo noi a creare la nostra realtà. Non fate così. Le persone poi pensano che siete andati in una setta di persone che poi esistono anche queste, forse dovremmo parlare anche di queste, delle persone che poi ti manipolano per stare con loro. ci sono delle sette, forse ci dovrei fare un video solo su quello, dai, ci fare un video solo su quello, comunque delle persone che creano dei sistemi per tenerti dentro ma a volte ti fregano anche i cellulari, cioè ti prendono i cellulari, ti prendono i tuoi dati e ti ricattano per non uscire dalla setta. Hanno proprio dei tuoi dati personali e ti dicono non lo puoi fare altrimenti noi diciamo questa cosa su di te oppure, che ne so, usiamo i tuoi codici bancari. Io fortunatamente non ho mai visto tutte esperienze di questo tipo, vi auguro di non viverla mai una cosa del genere. Però davvero, anche lì smettiamo di dire che tutte le persone che intraprendono un percorso che può essere anche i boy scout stanno dentro una setta. Ogni gruppo ha le sue regole interne che non vengono capite da quelli fuori dal gruppo. È chiaro che se uno non fa il boy scout non capisce quelli che fanno il boy scout però non puoi dire che quelli che fanno i boy scout stanno dentro una setta perché è un gruppo, è un gruppo molto unito e finché tu stai bene dentro quel gruppo è giusto che ci stai. Pure io quando vedevo i boy scout con i pantaloncini corti a ottobre, a novembre e dicevo ma non siete ridicoli con queste cose o non avete freddo però non li capivo semplicemente era una cosa che non capivo poi dopo crescendo ho capito che non avevo capito stare lì a dire che ogni gruppo unito è una setta mi sembra un po' eccessivo. Ecco secondo me dovremmo dare un nome alle cose una cosa è un gruppo unito una cosa è una setta una cosa è un piramidale una truffa e una cosa è un network marketing e poi davvero smettiamola di avere questo vittimismo nei confronti del truffatore di turno o del tipo di turno che ah tu mi hai truffato perché in realtà siamo noi che creiamo la nostra realtà ma dico una frase fatta che non è una frase fatta perché è una cosa terribilmente reale che siamo noi che creare la nostra realtà però sei tu che te lo sei attirato sei tu che l'hai voluto quindi anche se ti è capitato se ti sta capitando uno dei casi che ti ho presentato chiaramente lascia perdere però se ti è capitato negli anni precedenti o nei mesi precedenti una cosa del genere ricordati che te lo sei creato tu che probabilmente ha una tua utilità esattamente come un incidente stradale esattamente come qualsiasi cosa brutto può esserti capitata te lo sei creato tu ha una sua utilità e poi stare lì a fare la vittima e a lamentarti di quello che ti è successo oppure poi decide di imparare qualcosa e di aprire un po' di più il tuo cuore perché realizzi che quella cosa in realtà l'hai attirata tu ma di questo magari ne parliamo in un altro video più dedicato ti lascio sempre in descrizione qui nel video i link per approfondire quindi il nostro Master in Coaching e Management il videocorso gratuito attrae il lavoro per attrarre il lavoro dei tuoi sogni prima che il lavoro dei tuoi incubi attragga te chiaramente se questo video vi è piaciuto mettete mi piace condividetelo mandatelo a tutti amici, parenti iscrivetevi al canale e se non vi è piaciuto ovviamente fatevi i fatti vostri ciao ciao